Noi invece facciamo dei lavori con dei baci ridicoli, che dobbiamo fare in dieci giorni quando va bene e questo alla fine si vede, anche il più bravo, il più accanito come fotografia, come colore, come qualità di colore. Io vedo come lavorano, perché ho riuscito a convincere gli americani a fare il bucato qua, e quindi vedo come lavorano. Ad esempio, una cosa che mi ha fatto molta impressione imparare, quando il primo montaggio di un film è finito, con uno speaker provvisorio, e una musica quella che si attira, viene portato e fatto vedere, come voi quasi stasera, però magari anche a Cattacirone, in Sicilia o nelle montagne, c'è un pubblico che è raffinato, che è popolare. No, il vasto pubblico della televisione, fanno dalle dieci alle venti proiezioni, e fino a qui, e però il livello viene adesso, creano i nanodussanti, anche i nanodussanti. Ognuno spingono il pulsante quando vedono delle scene, delle sequenze belle, o un'altra spingono il pulsante quando vedono delle sequenze noioso, non riuscite, o non riuscite.